Arrivati i primi prefabbricati per ospitare gli alunni del Civitali nel giardino dell'Istituto Carrara. Dalla prossima settimana arriveranno i moduli per le classi del Paladini al Campo di Marte. Palazzo Micheletti al via le attività sociali dopo la donazione dell'immobile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In Versili ha revocato il divieto di balneazione nel tratto di mare tra Lido e Viareggio alla foce della Fossa dell'Abate. Piazze pronte per la balestra, completato l'allestimento per il campionato italiano in Piazza Napoleone e Piazza San Martino, domenica diretta su Noi TV. Lo sport un sabato bestiale, Ponsacco e calendario, giornata campale per la lucchese impegnata nel probante test sul campo di una delle grandi favorite in Serie D, ma sarà anche il giorno della pubblicazione dei calendari. Ecco il nuovo Tau, forte e ambizioso. È stata presentata ufficialmente la squadra Amaranto, affidata a mister Pietro Cristiani, che parteciperà al campionato di prima categoria, debutto insidioso sul campo del Ponte Amoriano. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo di scuole perché si sta avvicinando l'inizio dell'anno scolastico e sono arrivati i prefabbricati, i primi prefabbricati, quelli per ospitare gli alunni del Civitali, che ricordiamo hanno dovuto lasciare l'immobile di via San Nicolau, che saranno ospitati nel giardino dell'ITC Carrara. I lavori sono in corso proprio in queste ore, i lavori di sistemazione dei moduli. Ma vediamo il servizio. Sono arrivati i moduli prefabbricati che saranno posizionati in questi giorni nei cortili dell'ITC Carrara in Viale Marti. Si tratta dei moduli che per il prossimo anno scolastico ospiteranno cinque classi dell'Istituto Professionale Civitali. Una classe sarà formata da tre moduli e le altre quattro da due prefabbricati ciascuna, che oltre ai collegamenti saranno fornite di climatizzazione caldo e freddo. Altri moduli serviranno per i servizi igienici, suddivisi tra maschi, femmine e disabili. Contemporaneamente al Carrara stanno andando avanti i lavori di predisposizione degli spazi interni, messa in sicurezza dei controsoffitti e di imbiancatura locali. 16 classi del Civitali saranno infatti ospitate nel padiglione Lato Stadio, recentemente ristrutturato dall'amministrazione provinciale. Da ricordare, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, il prossimo 17 settembre, che l'entrata del Civitali sarà separata da quella utilizzata dagli studenti dell'ITC, che continueranno ad entrare dal cancello sulla circonvallazione. Gli alunni del Civitali entreranno invece dal cancello posto su Via Gramsci, Lato Gradinata Stadio. Per quanto riguarda l'Istituto Professionale Paladini, invece, all'inizio della prossima settimana arriveranno i moduli prefabbricati da sistemare nell'area parcheggio del Campo di Marte, che è stata riasfaltata in questi giorni dalle ditte incaricate. Sempre a Lucca c'è l'annuncio che a partire da lunedì 10 settembre, in concomitanza con la chiusura del cantiere Geal nel tratto tra Via Sandeia e Via Antonioli, Via di Tiglio tornerà a doppio senso di marcia. Ciò che cambierà rispetto a prima, si legge in un comunicato del Comune, è l'obbligo di svolta a destra per chi si metterà da via Ingrillini nella Via di Tiglio. E sempre a Lucca è stata approvata dal Consiglio Comunale la moratoria per tre anni all'apertura di nuovi esercizi di vendita e somministrazione di alimenti in centro storico. Lo stop a nuove pizzerie, gelaterie, bar e simili è stato approvato con 24 voti favorevoli e 4 astensioni. Soddisfazione da parte di Confcommercio, che parla di un passo in avanti fondamentale e decisivo per la tutela e il rilancio del centro storico. Rimaniamo a Lucca, ma ci spostiamo in Borgo Giannotti per il Via alle attività sociali all'interno di Palazzo Micheletti. Prendono vita le iniziative a carattere sociale di Palazzo Micheletti, l'immobile che la signora Giuseppina Micheletti ha donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La benefattrice ha vincolato la donazione ad un utilizzo di tipo sociale degli spazi del palazzo. Dopo un periodo di allestimento, da questa settimana quindi l'edificio accoglie i progetti realizzati da due associazioni lucchesi. La prima è l'associazione La Luna, che da quasi vent'anni è impegnata nella prevenzione e la lotta a ogni tipo di violenza di genere e nel sostegno alle donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale. Gli ambienti saranno condivisi con l'Istituto Carlo del Prete, che vi aprirà un centro di urno per minori che ancora vivono in famiglia ma che presentano situazioni con problematiche di vario genere. Quello di Palazzo Micheletti è un caso unico in Italia, un privato che sceglie una fondazione di origine bancaria per una donazione. È stata una decisione presa da tantissimi anni, dai tempi di Giancarlo Giurlani, perché io nella fondazione ci credo e poi volevo fare anche un dono alla mia città, la città di Lucca. Un soggetto privato che individua nella fondazione una controparte assolutamente affidabile per finalizzare già quelle che sono le proprie idee su quello di mettere a disposizione uno spazio fin da subito in un interesse generale, in un interesse della collettività, particolarmente legato al discorso di persone e soggetti disagiati. Questo è stato possibile realizzarlo. Oggi infatti si va ad inaugurare questi ambienti dove due associazioni, diciamo istituzioni del nostro territorio, avranno la possibilità qui di poter portare avanti i loro progetti. Nel servizio si parlava di violenza di genere e proprio riguardo a questo c'è la notizia che nel comune di Bagni di Lucca sarà inaugurata una nuova panchina rossa che in Valle del Serchio è diventato il simbolo proprio della lotta contro la violenza di genere. La nuova panchina rossa sarà inaugurata in località Caffaggio e l'inaugurazione avverrà sabato 8 settembre alle ore 11. Ci spostiamo adesso in Versilia perché torna di nuovo balneabile il tratto di mare alla foce della Fossa dell'Abate. Revocata stamani l'ordinanza che vietava la balneazione in alcuni stabilimenti alla foce della Fossa dell'Abate, il corso d'acqua che segna il confine tra Lidio di Camaiore e Viareggio. I divieti emessi con un'ordinanza datata a 4 settembre dai comuni di Camaiore e Viareggio avevano interessato lunedì il punto di campionamento foce del Fossa dell'Abate. Arpat oggi ha comunicato che a seguito delle analisi effettuate mercoledì 5 settembre 2018 l'area di balneazione è da considerare nuovamente idonea. Dai dati comunicati si evince che lo sforamento dei limiti nelle analisi del 4 settembre scorso che avevano poi determinato l'ordinanza di divieto è stato di lieve entità. Negli ultimi giorni, spiega l'amministrazione comunale di Camaiore, si è inoltre verificato un danneggiamento incidentale di uno degli spandenti a mare che sono nell'alveo della Fossa dell'Abate. La tubazione è già stata chiusa e si è in attesa di una prossima e celere riparazione. Torniamo a Lucca. La facciata della cattedrale di San Martino sarà illuminata con i tradizionali lumini in occasione della processione di Santa Croce. Il dietro fronte rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi è stato comunicato dai responsabili del Duomo. Contro la decisione di non sistemare i lumini perché la facciata era stata appena ripulita, nei giorni scorsi si erano espressi sia il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Bertocchini, che il sindaco Tambellini. E adesso il Duomo ha deciso di tornare sui propri passi. Rimaniamo in centro storico, tutto pronto in piazza Napoleone e proprio in piazza San Martino per il campionato italiano di balestra antica. Grazie al lavoro dei volontari dell'Associazione Contrade di San Paolino sono terminati gli allestimenti delle due piazze che ospiteranno il 34esimo campionato italiano di balestra antica LITAB in questo weekend a Lucca. Per la gara di sabato pomeriggio è stato montato in piazza San Martino un piccolo tabellone e le due postazioni di tiro che ospiteranno il maestro d'arme e il campione di ognuna delle 13 città per le rispettive competizioni. Per la gara di domenica pomeriggio, quella più attesa e spettacolare, è stata allestita a piazza Napoleone con un tabellone della lunghezza record di 25 metri e alto 5 metri, una lunga pedana su cui saranno montate le 13 panche da cui i tiratori effettueranno i tiri ed infine nelle retrovie un insieme di stalli che ospiteranno le 156 balestre in attesa di settare i loro colpi. Le 12 compagnie ospiti provenienti da Toscana, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Beneto e persino dalla Sardegna saranno assistite da 9 giovanissimi ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico per il Turismo Pertini di Lucca. Da non perdere anche due grandi corteggi per le vie del Centro Storico, a cui prenderanno parte circa 450 costumanti e le esibizioni di tamburini e sbandieratori durante gli intervalli di gara della domenica pomeriggio. E domenica pomeriggio Noi TV trasmetterà in diretta il campionato italiano di balestra antica. E adesso andiamo a vedere le immagini dell'inaugurazione di Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità, giunta alla sua diciottesima edizione che fino a domenica si terrà sulle mura urbane di Lucca. Questo il momento del taglio del nastro da parte del prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti. Quest'anno ci sono 250 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Protagonista sarà il Giappone con tutte le sue tradizioni in ambito di giardinaggio. Vedete queste immagini. Allora Murabilia quindi fino a domenica prossima sulle mura urbane. Parliamo adesso di un commiato ai carabinieri. Giovedì 6 settembre il tenente colonnello Fabrizio Casini, capo ufficio comando del comando provinciale dei carabinieri di Lucca, ha lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età. Con una cerimonia presso l'ufficio territoriale del governo, Casini è stato salutato dal comandante provinciale dei carabinieri, dal prefetto, dalle autorità e dai colleghi di tutta la provincia. Da Lucca ci spostiamo adesso a Pescia, territorio limitrofo alla nostra provincia, confinante con Capannori. Ci sono importanti annunci per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Sentiamo. Dallo scorso marzo su tutto il territorio comunale di Pescia è operativa Alia S.F.A., il nuovo gestore di servizi ambientali della Toscana Centrale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Palagio, il sindaco Oreste Giurlani, l'amministratore delegato di Alia Livio Giannotti e il direttore dei servizi dell'area Alessio Arrighi hanno fatto il punto su ciò che è stato fatto ed hanno illustrato il piano di riorganizzazione dei servizi. Per Alia, che ha preso le consegne dal precedente gestore, Cosea, la partenza non è stata facile perché ha iniziato l'attività nel periodo del commissariamento del Comune. Con la nuova amministrazione le cose sono migliorate. Dopo sei mesi possiamo dire che il passo è stato preso, alcune abitudini che erano relative a una gestione precedente sono state necessariamente cambiate anche per corrispondere all'offerta della gara e anche a un quadro normativo cambiato. A questo punto, diciamo, nei prossimi mesi sicuramente si vedrà ancora meglio di ora il segno di questo cambiamento. Il sindaco Giurlani ha spiegato le intenzioni dell'amministrazione comunale nel campo della gestione dei rifiuti. Ci prepariamo per il 2019 dove alliveremo a migliorare il servizio, raccolta differenziata spinta, porta a porta, metteremo i cassonetti in città sotto suolo e faremo un meccanismo di premialità perché coloro che consumano meno o differenziano di più dovranno avere una premialità. In un ultimo, lavoriamo con Alia nel 2019, essendo noi città della fiaba dei ragazzi e dell'infanzia regionale, volevamo lavorare per un'educazione ambientale spinta sulle nuove generazioni e quindi lavorare con Alia per insegnare cosa vuol dire tutelare l'ambiente, tenere pulito e soprattutto non sporcare. A Capandori è in corso la festa dell'aria, sentiamo l'invito alla partecipazione a questa festa che è stata fatta dall'assessore allo sport di Capandori, Serena Frediani, su Facebook. Buongiorno a tutti, siamo all'aeroporto di Tassignano e vi volevo ricordare che è in corso, come vedete dalle mongolfiere qui dietro, ora è il campionato nazionale di mongolfiere, ma presto ci sarà anche il trofeo Città di Capandori e vi volevo invitare sabato e domenica perché saranno giornate bellissime. Allora sabato sera a partire dalle 9, qui aperto a tutti, naturalmente gratuito, ci sarà il Ballon Glow, che vuol dire che ci saranno più di 15 mongolfiere che balleranno e si accenderanno a ritmo di musica, quindi sarà uno spettacolo unico, veramente unico. E poi domenica pomeriggio ci sarà il volo vincolato, quindi chi ha piacere di provare l'ebbrezza del volo in mongolfiera e sarà possibile venire senza prenotazione, godersi un po' il volo dei piloti e poi provare anche questa emozione. Buona giornata a tutti! E proprio dei campionati italiani di balestra antica parla Sergio Talenti nella sua rubrica settimanale L'Ancora. A Lucca questo fine settimana per la prima volta avrà luogo il 34esimo campionato nazionale di tiro alla balestra, un tuffone medioevo documentato già dagli statuti della città fin dal 1169. Armi, tornei, musiche, insomma un mondo millenario che affascina ed una memoria delle nostre comunità vissuta nelle rocche, nei castelli e nei contadi, ma bonificata dalla ferocia di cui soltanto il medioevo era capace. Ma anche memoria raccontata e trasformata perché è riscritta continuamente nel corso dei secoli fino al bellestriere del terzo millennio, che a Lucca la reinterpretano sul principio dichiarato di solidarietà e di uguaglianza. L'agonismo, insomma, come forza vitale di una civiltà non violenta ed inclusiva, materia di riflessione questa per certe tifosserie da stadio o da bar. E infine memoria ludica, perché il torneo sarà un gioco cui tutti vorranno partecipare, non essere spettatori ma entrare dentro lo spettacolo. E qui siamo all'urgenza dei giorni d'oggi di uscire di casa, di riconoscere gli altri, di scambiare parole finalmente umane. La festa dunque comincia. E prima di chiudere la notizia che domenica 9 settembre è in programma anche a Lucca la quinta edizione della manifestazione Pedala per dare la vita. Partenza della ciclopedalata alle 15.30 dalla Terrazza Petroni al Parco Fluviale di Lucca e arrivo in Piazza San Michele. L'iniziativa era stata programmata inizialmente per il 2 settembre ma era stata poi rinviata per il maltempo. La ciclopedalata, lo ricordiamo, ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue. Quindi appuntamento domenica alle 15.30 alla Terrazza Petroni. È tutto per questa prima parte dell'ETG. Adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.